Fui strisciato solo la pruva della nave, voglio vedere perché nel mare c'erano giù tanti che gridavano, gli davano aiuto che erano vivi, nel mare c'erano tanti perché tanti erano buoni da notare. E i giri prendevano, tiravano su, perché su quella nave lì c'erano un po' di italiani come manutenzione, penso, cento, centocinquanta, non so quanti erano, erano parecchi, quelli che tiravano su, lavoravano, tirano su con la corda a prendere quelli che c'erano, gli davano fin. E a un certo punto sento che la nave va su di giro, fa come si deve fare questa, la luna si era spostata ma per andare a patrasso in quella direzione è questa, vedi qua sulla nave, su di giro e punto, quello punto, se ne va, se ne va, li lascia tutti, se ne va e veniva a guardare, un cinquecento vivi c'erano ancora che ridavano aiuto, correvano sotto verso la nave, ridavano aiuto al massimo, la nave se ne è andata, è andata, è andata, ho messo giù, quando ho visto questo ho messo giù la testa e mi sono messo a piangere, dieci minuti prima ero anch'io con quelli, vedendo questo è il massimo della disperazione, è il massimo che ci possa essere, se ne è andata, è arrivata la mattina verso le otto e mezza a patrasso.